Musica Sì, per tutti sono Giù di Profibitaliane Oggi ragazzi un video molto veloce Ho già le cuffie perché andremo a vedere il trailer Credo ufficiale Di Fortnite Ok, non è su Sulla pagina Youtube o su Facebook di Fortnite Non l'ho trovato Sono andato sul canale Youtube di Fortnite Ma non c'è Sono andato Ho cercato trailer season 5 Potete andarlo a vedere anche voi su Youtube E è di questo Red Fury E ragazzi è fatto veramente da Dio Quindi sembra veramente il trailer della season 5 Fatto dagli sviluppatori di Fortnite Ragazzi lo andiamo a vedere Sta per uscire Questo video lo metterò easy subito quando uscirà Andiamo a vedere Sono in ansia più di ogni altra cosa Dura un minuto Quindi andiamolo a vedere Ok, Loot Lake 12 giorni fa Ecco qua Razzo Boom Poi a carica Nooo Il panino California desert today Oggi Quindi oggi Proprio è una roba fresca questa Rega Che figata C'è un writer che scrive Che disegna Appunto un gatto egiziano Possiamo dire E viene teletrasportato Oddio ragazzi Nooo Oh 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 Cos'è tutto sto pappardello Rega è finito Rega è finito Andiamo a vedere l'ultima scena Appunto viene riportato l'hamburger Sulla mappa Poi viene C'è un Boh Una macchinetta Quelli da golf Un Una faccia umpa Come si chiamano queste Quelle dell'isola di Pasqua Una carrozza Una carrozza Sembra Del Fort West Appunto Poi ragazzi Una nave Una nave Che sembra una nave pirata Praticamente Quindi ragazzi Alla fine abbiamo la scritta Season Season 5 Worlds Collide Collisione di mondi Ragazzi Verrà fuori Un putiferio Ok io finisco qua il video Spero che questo trail vi sia piaciuto Non so esattamente Metto le mani avanti Non so esattamente Da chi sia stato fatto Però ragazzi È veramente fantastico Atteniamo con ansia La season 5 È peggio Del tendere con ansia L'esame di maturità L'esame di terza Un esame Qualsiasi Cioè Sono più in ansia oggi ragazzi Bene ragazzi Io vi saluto Mi invito a iscrivervi al canale Cliccare sulla campanellina Per non perdervi nessun altro video E noi ci vediamo Alla season 5 Su Fortnite Battle Royale Ciao 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 Grazie a tutti.